Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Vanessa. Vanessa, di dove sei? Io sono brasiliana. Quante volte sei stata a Medjugorje? È la mia prima volta. La mia prima volta. E dove e quanto hai sentito parlare per la prima volta? Quanto tempo fa, quando il nostro fondatore della mia comunità, nel 2005, io sono entrata in comunità nel 2005. E loro, prima di 2000, sono stati qua, sono venuti qua per confermare se questa era la volontà di Dio. E sono venuti per chiedere la Madonna. E Vizca ha confermato, ha detto quello che non sapeva di niente. E ha detto a loro, questa comunità è la volontà di Dio. Questa cosa che volete fare è la volontà di Dio. E loro avevano un dubbio se era la volontà loro o la volontà di Dio. È iniziata la comunità nel 2000. In 2005 ho sentito parlare per la prima volta di Medjugorje. Sempre, era un desiderio molto grande di venire. Adesso sono qui, dopo molto tempo. Wow, incredibile. E quali sono le vostre esperienze? La mia, la mia esperienza. Questo, io sono qua da due giorni, farò solo quattro giorni. Ma quello che sto sentendo è la presenza di Dio, la presenza della Madonna, la pace, molto grande. Ma principalmente salendo questo posto così pieno di pietra, mi sento, questo è il riflesso della vita. La vita è così, è fatta di sofferenze, di tante cose, dubbi, stabilità. Ma Dio che è presente in questo percorso, fino a quando arriviamo a vedere questa cosa bella che è il cielo. E questo è quello che sto meditando qui, che sto sentendo Dio parlare dentro di me. Qui è un posto dove tu trovi veramente una tenerezza di Dio, una carezza di Dio. È un posto dove tu puoi, io sono missionaria di vita attiva. Venire qua è per me un ritiro, un posto dove posso ritrovare forza per continuare la mia missione. Torno in Sardegna, che vivo in Sardegna, in missione. Torno in Sardegna per lavorare con i poveri, con le persone che hanno bisogno. Ricarica, ricarica la batteria dentro dell'anima. E questo è quello che sento. Cosa vuoi dire alle persone che non conoscono me di voi? Perché dovremmo venire qui? È bello. La prima cosa che sento è una persona che non conosci. Deve venire. Perché qui tu puoi trovare quella pace che stai cercando dappertutto, meno nel cuore di Maria. E qui è un posto dove tu sei stanco, hai desiderio di ritrovare forza, anche chi ha un dubbio, la fede. Queste persone, tu puoi, ogni persona puoi venire per ritrovare questo. almeno un po' di questa carezza di Dio. Ma principalmente nel cuore di Maria possiamo riposare, riposare la testa, lasciare un po' la vita normale. Qui quando tu vieni è per essere in silenzio, in preghiera, trovare questa presenza. Dove la Madonna è a parte tante volte, possiamo essere più vicino al cielo. Questo è il Medjugorje per me. E preghi il Rosario? Perché preghi il Rosario? Ah, perché prego il Rosario? No, prima cosa perché la Madonna ha chiesto questa preghiera, come un modo di ascoltare quella che è la volontà di Dio per noi, e anche per trovare forza nella battaglia della vita, perché noi siamo, per me il Rosario è come una preghiera di bambino, che ripete, mamma, 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 per favore, per favore, è così. Noi abbiamo bisogno di essere bambini per entrare nel cielo, e se preghiamo il Rosario facciamo così, mamma, 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 è così. E che diresti alla gente perché sei cattolica? Come? Perché sei cattolica tu? Perché sono cattolica? Questa è la bellezza della nostra fede. Ah, sì, sì. Io sono cattolica da sempre, da quando sono nata, però non ero cattolica praticante, questo posso dire. Aspetta che facciamo così. Sì. Continuo? Sì, sì. Va bene. Quando ho incontrato la prima volta la grazia della confessione, quando ero già grande, ho fatto un'esperienza con Dio, è la bellezza di avere un posto dove tu possa trovare nella tua vita la consapevolezza della tua debilità. La chiesa cattolica è un posto dove tu puoi ricominciare sempre, attraverso la confessione. Per me è la grazia dell'eucaristia, di ricevere Gesù vivo, la grazia di avere una mamma, di poter parlare con lei, di poter essere vicino a lei. Questa è la grazia, di essere cattolico, cattolico. Ognuno di noi che siamo cattolici sentiamo, apparteniamo a una famiglia che adesso è nella battaglia della vita, ma è già in paradiso insieme a questi che sono già in cielo. La chiesa cattolica crede in questa comunione dei santi, che siamo noi, qui sono loro in cielo. Noi possiamo avere questo, la bellezza di non vivere per niente, di sapere che stiamo salendo e abbiamo una meta. Essere cattolico è questo anche. Cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potremmo pensare cosa penserà il saccadote di tutte le cose brutte che hanno fatto? Ok. Io penso la confessione come una lavatrice, non come un dovere, ma come un... io posso, io posso lavarmi, io posso essere libero. Andare alla confessione non è andare a soffrire, è andare a trovare quella grazia che Gesù già... pensa che Gesù, quando noi ci confessiamo, Gesù sta morendo un'altra volta per me, solo per me. E quando entro in confessionario, ho lì, Gesù che morre per me. Non è dovere, è godere della presenza di Gesù e di poter ricominciare senza paura dei sacerdoti, senza paura dei nostri deboli. Noi siamo peccatori. Riconoscere quello ci fa più vicino a Gesù. Gesù non ci giudica. Gesù ti ama, ci ama, ci abbraccia. Nel confessionario è così, è essere un foglio in bianco. Tipo possiamo scrivere tutto un'altra volta, senza paura. Grazie. Grazie.